I creatori del campione in cassa cattivissimo me ora si rivolgono ai più piccini con una favola, l'Orax, dal carattere edificante di Dascalico che esorta il suo pubblico a rispettare la natura. Quando il dodicenne Ted scopre come far innamorare di sé la bella Audrey, non ci pensa due volte che un sguardo orbuto si imbalde in un'incredibile avventura che lo porterà a cercare di salvare il mondo intero. Con coraggio lascia il confortevole carore di casa, l'aria pulita della città, di Glenelville e affronta l'ignoto dominato da un senso di lugubre disperazione e abbandono lungendoti nei confini della terra deserta per incontrare l'eremita Ansala e proteggere l'ultimo semere dell'albero di Truffola. Riuscirà Ted a salvare il mondo, pronare il suo sogno d'amore e soprattutto affrontare il terribile e spietato sindaco di Glenelville, L'Avido Hoher, che è pronto a tutto per evitare che Ted riesca in impresa.